parliamo parliamo di sta notizia intanto ciao a tutti bentornati sul mio canale notizia che non ci voleva si preciperava un po di questa notizia in questi giorni ma a quanto mare purtroppo accadrà marco mancoso direzione monza andiamo a rafforzare davanti una nostra rivale il mondo pagherà la clausola da 3 milioni 3 milioni sono pochi per il campionato che ha fatto marco però ovviamente la clausola e fino al 20 settembre sicuramente il monza la pagherà prima anzi si potrà anche che la magagliani l'abbia già pagata quindi pensate un po voi quindi secondo me è inevitabile ormai il fatto che mancoso vada ormai al monza e quindi dopo l'acquisto dei donati il monza ripesca in casa lecce ma prende un giocatore così ma prende il nostro capitano ora l'unica cosa che ci resta da fare è sperare di non vendere altri big tra cui di pietriccione falco perché sennò veramente faremo difficoltà abbiamo preso pagagnini si abbiamo avuto dei rinforzi ma adesso oggi per forza un centrocampista molto buono forte per la serie b e ragazzi questo video lampo perché una notizia lampo che è arrivata leggendo un po sui vari siti e allora questo vive che le speranze adesso sono pochissime di far rimanere mancoso a lecce ormai il suo ciclo credo che sia arrivato al capolinea e dispiace per per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni però ovviamente gli auguro lì dopo una fortuna per questa nuova avventura mi raccomando non ci segnare maledetto ciao